È stato un weekend di magra per le formazioni isolane impegnate nei campionati nazionali di basket femminile. In Serie 1 si ferma la corsa della Dinamo Sassari che dopo tre vittorie consecutive cade in casa dell'attrezzatissima Virtus Bologna, seconda forza del campionato a pari merito con Schio. Trafitte dai 20 punti dell'implacabile Zandalasini, le women di coach restivo hanno pagato dazio di fronte alla fisicità delle vunere e nel terzo periodo hanno incassato il break di 17-4 che ha spianato la strada al successo delle Emiliane, vittoriose per 81-63. Il KO costa caro al banco di Sardegna che incassa il sorpasso a opera dell'Oxygen Roma e perde l'ottavo posto in classifica, ultimo utile per l'accesso ai play-off. In Serie 2 invece si allunga la serie negativa della Tech Find Selarjus, sconfitta per 87-59 sul campo di Costa Masnaga. L'avvicendamento in panchina tra Righi e la sua ex Francesca Amadasi non è bastato per rivitalizzare il quintetto giallonero che al cospetto della vicecapolista del torneo è riuscito a tener botta solo per un quarto e mezzo prima di staccarsi in maniera netta nel punteggio. Il San Salvatore resta comunque sesto con 26 punti in compagnia della Scottie Empoli nel pieno della zona play-off.